Siamo tornati alla biglietteria ferroviaria di Praia a Mare dove da ieri, come potete vedere, lo sportello è di nuovo chiuso al pubblico per problemi tecnici. Continua dunque l'odissea per la stazione ferroviaria di Praia. Dopo la chiusura il 1 luglio per il pensionamento del vecchio addetto e la riapertura provvisoria il 26 luglio, lo sportello ha nuovamente chiuso i battenti fino a nuovo ordine. L'adetto provvisorio è tornato a prestare servizio a Castiglione Cosentino, stazione affollata d'inverno soprattutto dagli studenti che si recano all'università di Rende. Quindi dal momento che l'afflusso a Praia cala già dai primi giorni di settembre, si è pensato bene di continuare questa sorta di apri e chiudi. Che era una misura tampone si sapeva da subito, ma si sperava che in questo periodo si sarebbe trovata una soluzione e non un nuovo scaricabarile nei confronti del vicino bar della stazione che rivende solo biglietti chilometrici e sull'Agenzia di Viaggi di Tortora per percorrenze più lunghe. La sostituzione doveva durare per il solo mese di agosto, dopodiché i vertici regionali di Trenitalia avrebbero dovuto provvedere a una soluzione definitiva, cosa che effettivamente non è avvenuta.